Ai Maria carissimi, benvenuti a questa nuova puntata sul commento al Vangelo secondo i padri della Chiesa, tratti dalla catena aurea di San Tommaso d'Aquino. Oggi vogliamo meditare il brano del Vangelo di San Giovanni, capitolo 15, versetti 1-8, che parla appunto della vita e i trarci. Ecco, Gesù già aveva presentato se stesso in altre occasioni come il pane della vita, come il granello di frumento, come la vera luce. E ora, forse ecco, dopo l'istituzione della Santa Messa, e quindi parlando, ecco, consagrando anche il vino nel suo sangue, ecco che si paragona appunto alla vigna. Questa vigna che già nell'Antico Testamento, ecco, Dio aveva paragonato appunto Israele, il popolo di Israele, che però non portò frutti. Gesù invece è la vera vite, che copre dei sui trarci feconti tutto il mondo. Però ecco, dobbiamo dire che più che la vita immateriale, Egli ha in sé e comunica la linfa vitale, cioè la sua grazia, la vita divina, la vita che è il principio, è l'anima della vita soprannaturale. Questa vita viene comunicata ai fedeli che sono uniti a Lui appunto attraverso il battesimo, appunto vengono innestati attraverso il battesimo. Ecco, di questi trarci portano frutto se si alimentano appunto Gesù attraverso la sua parola, attraverso i suoi sacramenti, attraverso l'osservanza dei comandamenti, delle opere buone. Mentre quelli che non portano frutti, che non seguono, ecco, l'insegnamento evangelico, che non osservano i comandamenti, che non portano appunto opere buone, ecco che questi trarci, poche parole, che non hanno la grazia, che vivono in peccato, verranno poi un giorno recisi e purtroppo cadranno nel fuoco dell'inferno. E quindi ecco, dobbiamo veramente pregare affinché possiamo anche noi essere dei veri trarci, uniti a Gesù, quindi cerchiamo sempre di portare frutti di vita eterna. E ora sentiamo appunto il commento dei padri della Chiesa. Nel Vangelo secondo Giovanni, in quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, Io sono la vita vera, il Padre mio è l'agricoltore. Ogni trarcio che in me non porta frutto lo taglia, e ogni trarcio che porta frutto lo quota, perché porti più frutto. Voi siete già mondi a causa della parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il trarcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vita, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vita, voi i trarci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via, come il trarcio è secca, poiché lo raccolgono, lo gettono il fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quel che volete e vi sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate mie discepoli. Ecco San Dilario dice Alzato si, si affretta a consumare il sacramento della passione corporale per l'amore di compiere il comandamento paterno. Tuttavia prende l'occasione per manifestare il mistero dell'assunzione della carne, mediante la quale è presente e comitrarci nella vita. E aggiunge Io sono la vera vite. San Agostino con questo dice che l'uomo Cristo Gesù è il capo della Chiesa e noi siamo le sue membra. Ora la vite e i trarci sono della medesima natura. Ma quando dice Io sono la vite vera, forse aggiunge vera per riferirla a quella vite di cui questa è una semplice similitudine? Sicché si parla di vite per similitudine e non per proprietà, come si fa con l'agnello, con le pecore e altre cose del genere, poiché tali cose sono più vere in sé stesse e da esse sono ricavate queste similitudini. Dicendo però Io sono la vera vite, si vuole soprattutto distinguere da quella di cui si dice, Geremia, come dunque se incattivita da vite tralignata. Infatti in che modo è una vera vite quella che invece di produrre l'uva produce spine? San Dilario, ma separando la forma della Maestà Paterna dall'assunzione di questa umiltà corporea, mostra il Padre come cultore dirigente di questa vigna dicendo San Agostino, noi coltiviamo Dio e Dio coltiva noi, ma noi coltiviamo Dio non in modo tale da renderlo migliore, infatti lo coltiviamo adorandolo, non arando, mentre per il fatto che egli ci coltiva ci rende migliori. La sua coltivazione opera in noi estirpando dei nostri cuori i semi della cattiveria, aprendo i nostri cuori all'aratro della sua parola, seminando in noi i semi dei suoi comandamenti e aspettando i frutti della pietà. Poi San Giovanni Crisostomo, e mentre Cristo basta a se stesso, i discepoli hanno un gran bisogno dell'aiuto dell'agricoltore, perché perciò non dice nulla della vita, mentre parla dei tralci quando soggiunge ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie, con il frutto qui allude in modo nascosto alla vita, mostrando che senza le opere in esso non ci può essere nulla. San Dilario taglia i tralci inutili e falsi e li destina a essere bruciati. San Giovanni Crisostomo, e poiché anche coloro che sono assai virtuosi hanno bisogno del lavoro dell'agricoltore, aggiunge, e ogni tralcio che porta frutto lo pota, perché porti più frutto. Dice questo per le tribolazioni che li affliggono, mostrando che le tentazioni li rendono più forti, come il potare, ossia ad amputare i tralci li fa germogliare meglio. San Agostino, ma in questa vita chi è così puro da non aver bisogno di essere più volto purificato? Perciò se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. Purifica quanti sono già monti, ossia fruttuosi, perché diventino tanto più fruttuosi quando più sono monti. Perciò da questo punto di vista, la vita è Cristo, sicché dice, il Padre è più grande di me, mentre da un altro punto di vista, in precedenza avevo detto, io e il Padre siamo una cosa sola, ed egli stesso agricoltore, non come quelli che prestano il loro servizio operando dall'esterno, ma come quelli che fanno crescere dall'interno. Perciò mostra subito di essere un potatore di tralci, dicendo, voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Ecco, egli è potatore di tralci, e questo è un compito dell'agricoltore, non della vita. Ma perché non dice, voi siete mondi a causa del battesimo, con cui siete stati lavati, se non perché il verbo che purifica nell'acqua? Togli il verbo, e che altro è l'acqua se non solo acqua? Aggiungi il verbo all'elemento e al sacramento. Ma donde ricava l'acqua un tale potere da toccare il corpo e purificare il cuore, se non dall'azione del verbo, non in quanto detto, ma in quanto creduto? Infatti, nella parola stessa, una cosa è il suono che passa e un'altra è la potenza che rimane. Questa parola della fede nella Chiesa di Dio è così potente che per mezzo di colui che crede presenta, benedice e tocca il bambino, lo purifica anche se non è ancora in grado di credere. San Giovanni Crisostomo oppure dice voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato, cioè siete stati dominati dalla mia dottrina e liberati dall'errore dei giudei. San Giovanni Crisostomo poiché aveva detto già che erano mondi a causa delle parole che aveva loro detto, insegna che ora è necessario iniziare da ciò che dipende a loro e perciò dice rimanete in me e io in voi. San Agostino essi non si trovano in lui allo stesso modo in cui egli si trova in loro. Tutte e due le cose sono a loro vantaggio e non suo. Infatti i trarci si trovano nella vite senza portare nulla alla vite mentre essi ricevano da essa ciò di cui vivere. In vero la vite si trova nei trarci come per somministrare ad essi l'alimento vitale e non lo ricava da loro. Per cui l'oro restare in Cristo e il fatto di avere Cristo come permanente in loro sono cose vantaggiose ai discepoli e non a Cristo. Perciò soggiunge come il trarcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vite così anche voi se non rimanete in me. Quale grande esaltazione della grazia apri i cuori agli umili chiude la bocca ai superbi. Coloro che non ritengono che sia loro necessario Dio per fare le opere buone forse che non si oppongono alla verità non essendo assertori ma distruttori libero arbitrio infatti chi pensa di portare frutto da se stesso non si trova nella vite ora chi non si trova nella vite non si trova nel Cristo ma chi non si trova nel Cristo non è un cristiano. Al quino ogni frutto delle opere buone deriva dalla ridice di colui che con la sua grazia ci ha liberato e con lo suo aiuto ci induce a produrre un frutto sempre più grande perciò con ripetizione e spiegazione delle cose precedenti soggiunge io sono la vite e voi trarci chi rimane in me credento obbedento e perseverando e io in lui illuminando aiutando e concedendo la perseveranza costui e non un altro fa molto frutto San Agostino ma perché qualcuno non pensi che il trarcio possa produrre da se stesso almeno un piccolo frutto soggiunge perché senza di me non potete far nulla non dice potete far poco perché se il trarcio non resta nella vite e non vive della radice da se stesso non può produrre alcun frutto ma se è vero che il Cristo non avrebbe potuto essere una vite se non fosse stato uomo tuttavia non avrebbe potuto concedere questa grazia ai trarci se non fosse stato anche Dio San Gianni Crisostomo infatti il figlio non contribuisce meno del padre nell'aiutare i discepoli infatti il padre purifica ma il figlio ha di suo di rendere fruttuosi i trarci tuttavia si è dimostrato che il purificatore compete anche al figlio e il conservare nella radice compete al padre certo è un gran danno in non essere in grado di produrre qualcosa ma il Signore non si ferma a questo punto bensì prosegue il discorso dicendo chi non rimane in me viene gettato via come il trarcio cioè non codrà della cura dell'agricoltore e si secca cioè si è ricavato qualcosa della radice poi lo perde privato del suo aiuto e della vita e poi lo raccolgono calquino i miei ditori sono gli angeli i quali lo raccolgono e lo gettano nel fuoco eterno e lo bruciano San Agostino i trarci della vite sono tante più spreggevoli quanto meno rimangono attaccati alla vite mentre sono tanto più glorificati quando più le restano uniti al trarcio tocca in sorte una delle due cose o la vita o il fuoco se non è legato alla vite sarà nel fuoco San Giovanni Crisostomo poi mostrando ciò che significa restare in lui soggiunge se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi chiedete quelle che volete e vi sarà dato chiede la manifestazione mediante le opere San Agostino bisogna dunque dire che le sue parole rimangono in noi quando facciamo quel che comandano e amiamo ciò che promettono ora quando le sue parole rimangono nella memoria ma non si riscontrano nella vita il trarcio non si trova nella vita perché non trai la vita dalla radice ma che cosa possono volere restare nel Salvatore se non ciò che riguarda la salvezza infatti una cosa è quella che vogliamo perché siamo in Cristo e un'altra quelle che vogliamo perché siamo ancora nel secolo e per il fatto che dimoriamo in questo secolo talora ci accade di chiedere per ignoranza ciò che non ci è utile ma se rimaniamo in Cristo Egli non ci concederà se non ciò che è utile alla nostra salvezza tra queste parole rientra la preghiera del Pater Noster non lasciamoci allontanare delle nostre richieste dalle parole e dal senso di questa preghiera allora qualsiasi cosa domandiamo ci sarà concessa Infine San Giovanni Grisostomo in precedenza il Signore aveva mostrato che quando tramavano verso di loro delle insidie non rimanendo nel Cristo sarebbero stati bruciati ora mostra che i suoi discepoli saranno invincibili produrranno molto frutto dicendo in questo è glorificato il Padre mio che portiate molto frutto come se dicesse se compete alla gloria del Padre che voi facciate frutto non disprezzerà la sua gloria ora chi produce frutto è un discepolo di Cristo perciò soggiunge e diventiate miei discepoli Teofilatto d'altronde il frutto degli apostoli sono i gentili pagani che per mezzo del loro insegnamento sono vincolati alla fede e legati alla gloria di Dio carissimi siamo arrivati alla conclusione di questa puntata abbiamo sentito belle riflessioni da parte dei Padri della Chiesa e possiamo dire che i Padri della Chiesa ci hanno spronato a rimanere sempre uniti a Gesù quindi essere appunto uniti a Lui per portare i frutti di vita eterna per portare i frutti di santità chiediamo questa grazia di rimanere sempre uniti a Gesù ecco chiediamo questa grazia alla Madonna la mediatrice di tutte le grazie attraverso questa attraverso di lei questa grazia santifica ci arriva in modo abbondante anche la Madonna è quella nostra mediatrice ecco di tutte le grazie quindi attraverso di lei ecco ci arriva Gesù e quindi è un dono che riceviamo proprio attraverso la Madonna quindi chiediamo questa grazia alla Madonna di farci stare sempre uniti al Signore preghiamo anche per coloro che purtroppo sono secchi senza la grazia affinché possano riprendere vita quindi con naturalmente sempre con l'aiuto di Dio attraverso la preghiera e la penitenza ecco grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima puntata Ave Maria